In questo video ti spiegherò come creare una salda e robusta autostima. Ti sarà successo di avere a che fare con persone che apparentemente hanno un'autostima molto forte o con persone che nonostante loro insuccessi nel passato continuano ad avere un'autostima molto robusta. E ti sarai anche chiesto come mai alcune persone sembrano riuscire nelle situazioni che affrontano nonostante le difficoltà senza perdere quella sensazione, quell'atteggiamento che noi comunemente chiamiamo autostima. Per farlo è necessario capire che cos'è l'autostima, che cosa significa questa parola ma soprattutto è necessario comprendere il legame che esiste tra l'autostima e i fatti concreti della nostra vita. Un legame che probabilmente non ti aspetti. Allora, cominciamo. Autostima, stima di me stesso, cioè l'autostima è il valore, la stima del mio valore personale perché la stima è un valore. Quindi, quanto valgo? L'autostima è la risposta a questa domanda che io faccio a me stesso. Quanto valgo? Ho valore personale? Sono degno di stima? Cioè, sono degno di avere un alto valore personale? Adesso, cerchiamo di entrare nella questione in modo più preciso. Quando noi abbiamo avuto nel nostro passato una serie di esperienze di successo, quello che succede è di ritenere ovvio di avere un'alta autostima. Eppure questo non è vero, non capita a tutti di avere successo e di mantenere una salda autostima. Alcune persone continuano ad avere una bassa autostima, continuano ad avere una stima di sé, a darsi un valore molto più basso di quello che realmente dovrebbe essere in base alle esperienze concrete della vita. Altre persone si sopravvalutano e hanno un'alta autostima nonostante gli insuccessi, nonostante il loro passato, parli apertamente di scelte sbagliate, comportamenti sbagliati, mancanza di competenze, nonostante questo queste persone continuano ad avere un'alta autostima. Noi pensiamo che si autoilludono fondamentalmente, però l'autostima, essendo una valutazione del valore personale, l'autostima non è una valutazione misurabile, perché è una valutazione che faccio io. Quindi, essendo una valutazione che faccio io e non essendo misurabile, perché non posso prendere una bilancia e pesare quanto valgo, questo significa che è totalmente un'idea che dipende da me, un'idea che dipende da me e questa idea ovviamente dipenderà dal modo con il quale io guardo quegli eventi del mio passato, in cui posso aver avuto successo o insuccesso. Alcune persone diranno, no, non è possibile perché se non hai avuto successo, come fai a dire di avere un'alta autostima? Com'è possibile che la costruisci? Ecco, è questo il fatto, è questo l'aspetto importante. L'autostima non è legata tanto ai fatti quanto alla nostra interpretazione dei fatti, perché non è misurabile, non esiste un termometro dell'autostima. Questo te lo devi mettere in testa. Puoi misurarti la febbre, ma non puoi misurarti l'autostima. Quindi è totalmente una cosa che dipende da te. Nel momento in cui io mi rivolgo al passato, noto effettivamente che alcune esperienze mi danno ragione. Io avevo oggettivamente valore. Come mai allora adesso non ho quel valore e non me lo riconosco? Perché le mie sfide attuali magari sono diverse, ma le sfide sono sempre diverse. Le circostanze in cui le affrontiamo, le situazioni in cui viviamo, sono sempre diverse. E noi siamo in una condizione differente, quindi ogni sfida nel presente e nel futuro sarà diversa da quelle che abbiamo avuto nel passato. Quindi l'autostima non dipende, non dipende da quella valutazione. E' molto importante. Non c'è una valutazione oggettiva, ma soggettiva. Alcune persone, poniamo il caso, prendiamo l'esempio di qualcuno che ha un'alta autostima, nonostante gli insuccessi, guarda al suo passato e guarda al fatto che magari non dipende da lui il fatto di avere avuto un insuccesso e che c'erano delle circostanze esterne avverse e riconosce a se stesso di aver fatto tutto il possibile per poterle superare. Quindi quello che fa è pensare di aver bisogno di quell'incastro di situazioni che non c'è stato e che magari però potrebbe esserci. Quell'incastro di situazioni che non dipende da lui e di conseguenza non abbatte il suo valore personale. Altre persone invece guardano al proprio passato e dicono accidenti, ho sbagliato, ho fatto male perché altrimenti avrei avuto successo. E quindi che vanno a vedere? Vanno a vedere i loro errori, cioè dove gli mancavano delle competenze, dove gli mancavano delle capacità, dove erano carente in qualche cosa. E quindi la loro interpretazione, l'immagine che costruiscono di se stessi, quindi la loro interpretazione degli eventi dà adito a una costruzione di un'immagine personale di scarso valore. Mentre quelli di prima che hanno avuto gli stessi insuccessi, grazie a questa differente interpretazione danno adito a una valutazione di se stessi che consente la costruzione di un'immagine di alta autostima. La questione è che la nostra mente è distratta dal risultato finale, ma il risultato finale non è qualcosa che dipende sempre da noi, non solo. Il risultato finale non significa che io non ho valore, perché io potrei aver affrontato una sfida che richiedeva un mio miglioramento da 0 a 10, ok? Sono migliorato 8, non ho raggiunto 10, di conseguenza non ho ottenuto il risultato sperato, ma io ho più 8 come valore rispetto al mio punto di partenza. Questo è un aspetto fondamentale, un aspetto che le persone non prendono in considerazione. La nostra autostima non dipende realmente dai fatti, dipende dalla nostra interpretazione di quei fatti. E questo è un aspetto molto importante. E come faccio a dire però che si effettivamente non dipende da me, si dipende completamente da me, eccetera, eccetera, eccetera? Ecco, qui troviamo degli stili di pensiero. Alcune persone sono orientate a un'attribuzione esterna dei meriti, altre persone sono orientate a un'attribuzione interna dei meriti. Quindi va male qualcosa, ciò che è andato male dipende dall'esterno, ciò che è andato bene dipende da me, quindi ho un'altra autostima. La persona con uno stile di attribuzione differente, che fa ciò che è andato male dipende da me, ciò che è andato bene dipende dalle circostanze esterne, quindi ho una bassa autostima. A tutti e due è successa la stessa cosa, ma in una concezione di se stessi è completamente differente. Ecco, questo è un aspetto molto importante. La nostra autostima è un'idea, un'idea, ma non è soltanto un'idea, non è soltanto un pensiero frutto di un'interpretazione degli eventi in base allo stile attributivo che abbiamo. È anche una sensazione. Questo è l'aspetto importante, anzi è l'aspetto più importante, perché molto spesso, molto spesso, a causa delle esperienze che abbiamo avuto, focalizzandoci su quelle che sono state le difficoltà, noi sperimentiamo una sensazione negativa. Questa sensazione ci si appiccica addosso e ce la portiamo dietro nel tempo. Quando poi nel presente ci troviamo di fronte ad una nuova sfida, ad una nuova situazione, noi abbiamo ancora quella sensazione appiccicata addosso e quindi pensiamo a quella sfida con quella sensazione addosso. Se hai una sensazione negativa, bassa autostima. Se hai una sensazione positiva, alta autostima. È questo che fa la differenza. È un aspetto fondamentale. Perché? Perché se io ho una sensazione negativa, la mia mente, il mio inconscio, chiamalo come vuoi, la mia mente non conscia, tutto quello che ti pare, chiamalo come preferisci, si prepara all'insuccesso, perché il suo stato d'animo è uno stato d'animo fallimentare, fondamentalmente negativo. Immagina di andare a chiedere un aumento al tuo superiore, al tuo capo, tutto dimesso, dicendo ma io penso di meritarmi un aumento. Ecco, ovviamente, ovviamente avrai poche possibilità di avere quell'aumento. Se invece ti presenti dicendo io penso di avere diritto ad un aumento perché me lo merito, sicuramente ti starà ad ascoltare un po' più a lungo. Il risultato finale non dipende da te. Perché? Perché la decisione la prende qualcun altro. Ma queste due persone, con questi due atteggiamenti differenti, hanno differenti possibilità, probabilità di ottenere ciò che desiderano. Perché è il modo con il quale noi affrontiamo queste cose. Qualcuno dice, ma se io ho sempre fallito... Ecco, questo è un aspetto fondamentale, perché alcune persone dicono, ma se io ho sempre fallito, di nuovo, l'attenzione dove va, al risultato finale. Non va a cercare quelle circostanze che non riguardano te, non va a cercare quella miglioramento personale che tu hai ottenuto dalla tua esperienza. Ovviamente, se una persona ritiene di aver sempre fallito, deve anche guardare quanto delle sue scelte dipendeva dagli altri. Alcune persone sbagliano valutazioni, dicono, ma le nostre scelte dipendono sempre da qualcun altro. È ovvio che noi non abbiamo la possibilità di controllare tutto, ma abbiamo la possibilità di gestire quello che è sotto il nostro controllo. La questione è, tu, quello che era sotto il tuo controllo, l'hai gestito bene oppure no? Comunque, un matrimonio può finire. Un matrimonio può finire, due persone ed entrambe finisce il matrimonio, vengono entrambi lasciate dalle loro compagne e entrambi devono andarsi a trovare un triste monolocale da qualche parte, ma uno si riprende in due mesi e si è già rimesso in carreggiata, l'altro ci mette due anni. Questo è un aspetto molto importante, perché è stato analizzato a livello neuroscientifico da Richard Davidson e fondamentalmente quello che dice lui è questo, cioè una persona fondamentalmente pensa a tutto ciò che ha perduto, che ha perso e si focalizza sugli aspetti negativi e l'altra persona invece si riorienta sugli aspetti positivi. Questo processo non è automatico. Quante volte, quando ti succede qualcosa di negativo, continui a focalizzarti su quanto di negativo è successo, quante volte ti sforzi e dici basta, adesso basta, non ci voglio più pensare, penso all'aspetto positivo e penso a quello che posso fare oggi nel mio presente. Alcune persone dicono ma come si fa a controllare i propri pensieri? È proprio qui il fatto. I tuoi pensieri orientano la tua attenzione e se la tua attenzione va su ciò che di buono hai fatto, per quanto piccolo, ovviamente cambierai il tuo stato d'animo. Quindi quello stato d'animo cambierà e quando ti troverai di fronte a una sfida avrai uno stato d'animo migliore. Nel momento in cui invece tu vai sempre alla ricerca del negativo, lo stato d'animo sarà negativo, ok? Perché? Perché tu ripensando ai fallimenti, alle cose andate male, richiami anche quelle emozioni. Perché? Perché nelle tue reti mnemoniche non sono registrati solamente i fatti episodici, ma sono registrate anche le emozioni che tu hai provato in quegli episodi, in quelle situazioni. Se invece vai a richiamare gli aspetti positivi, richiamerai anche gli aspetti, le emozioni positive di quelle situazioni. La difficoltà principale della persona con scarsa autostima è quella di fare questo tipo di orientamento. dicono «Sì, è vero, sento la sensazione positiva, ma ho ancora quella cosa qui che mi pesa». Capisci? Capisci dov'è il tranello? Cioè il fatto è che siccome io ho qui qualcosa che mi pesa, magari sento qui o alla pancia, comunque o sulle spalle, sento quella sensazione negativa, se c'è ancora, non va bene, allora vuol dire che sto su quella sensazione negativa. Cioè non posso ospitare nel mio campo di attenzione entrambe le situazioni, sia quella positiva che quella negativa. E direziono il mio focus su quella negativa. Perché c'è ancora, semplicemente perché c'è ancora. È un po' come dire che se stamattina stavo cogliendo una rosa, mi sono bucato e quindi ho un buchino sul dito, sto tutto il giorno male perché mi sono bucato il dito. Qualcuno dirà che c'entra. C'entra perché? Perché se io mi concentro sempre sul buco nel dito, mi accorgerò che mi fa ancora male. Per delle ore mi sentirò una sensazione di disagio, magari sentirò un po' pulsare, mi sarà, insomma, avrò comunque del disagio al dito. Ecco, quello che avviene nella mente della persona con scarsa autostima è quello di non rendersi conto che questo orientamento cambia tutto, perché quell'orientamento modifica, modifica la percezione della realtà, ma soprattutto ti restituisce quelle cose di positivo che hai fatto con quelle sensazioni positive. La tendenza è quella a dare più importanza a ciò che è di negativo e si orienta sul negativo. Questo cambia il suo stato d'animo, cambia la sua postura, cambia la sua voce e questo porterà questa persona ad affrontare nuove sfide con un atteggiamento negativo. In questo modo la sua mente registrerà che cosa? Registrerà che di fronte ad ogni sfida, ad ogni prova, è quello l'atteggiamento da mantenere, perché lo mantieni così spesso. Il nostro inconscio è un hard disk che riempiamo noi, non è qualcosa che è così e non lo possiamo più cambiare. Essendo un hard disk che riempiamo noi, dobbiamo renderci conto che dobbiamo cominciare a riempirlo con qualcosa di diverso. All'inizio è ovvio che ci sarà la copresenza di sensazioni differenti, ma intanto la copresenza di una sensazione positiva, anche se minoritaria, è già qualcosa di meglio rispetto al resto. Altre persone dicono «Ah, ma io parto con un grande entusiasmo e in realtà è una sensazione positiva». E anche qui, no? Ecco, la mancanza di apprendimento dalle esperienze del passato. Partire sempre con un grande entusiasmo e quindi vedere tutto rosio, no? Il pensiero positivo, dicono alcuni. Ecco, non è vero, non è questo il pensiero positivo. Il pensiero positivo è un pensiero bilanciato. Tu devi prendere in considerazione anche quelle cose che non funzionano. Cioè la copresenza di sensazioni positive e negative, di pensieri positivi e negativi, è necessaria. La difficoltà a gestirla dipende dalla nostra personale ottusità nel non voler guardare ostinatamente il buono e il cattivo nello stesso tempo, come se noi non potessimo essere la stessa cosa contemporaneamente. E invece noi siamo esattamente questo. Abbiamo contemporaneamente aspetti positivi, aspetti negativi e dobbiamo anche capire come migliorare i negativi e come ottimizzare e rendere ancora più evidenti quelli positivi al fine di mutare quello stato d'animo e registrare nel nostro inconscio che cosa? Il fatto di dire, ok, allora, ho un atteggiamento che è anche positivo nell'affrontare le sfide e dopo che l'avrò fatto più volte questo sarà registrato e quindi avrò anche questa spinta. Ma non posso aspettarmela immediatamente. Devo costruirla. Quante volte stai attento a costruire questi aspetti? Quanto tempo dedichi a queste cose che ho detto nel video? Quante volte riguarderai questo video? Penserai di averlo capito, magari ti ha ispirato, ma non lo riguarderai e tanti piccoli passaggi che ho sottolineato te li perderai, non li ricorderai nemmeno. Creare la nostra autostima richiede tempo, tempo e impegno. E se non hai tempo e impegno per costruire la tua autostima, probabilmente non hai abbastanza, sufficiente voglia di vivere una vita soddisfacente. Grazie. Grazie. Grazie.